Nel mondo antico, prima di Cristo, la presenza di ospedali ha carattere molto sporadico e limiti ben precisi. Il Tempio di Esculapio a Pergamo, per esempio, accettava gli infermi solo dietro pagamento, mentre Platone riteneva che solo degni di cura fossero i cittadini liberi e soprattutto quelli che potevano guarire sicuramente. Scrive il massimo storico italiano della medicina Giorgio Cosmacini, era tuttavia dal Medioevo non pagano ma cristiano che venivano emergendo concetti e valori di grande rilevanza per la medicina. Già il cristianesimo delle origini aveva influito positivamente sulla pratica del curare. Lo stesso evangelista Luca era un diletto medico, emulo di Cristo nel risanare il fisico quanto lo spirito. Col cristianesimo, da un lato si affermava il concetto che il malato era un tutto unico, corpo e anima, dall'altro si affermava il valore dell'accoglienza, dell'assistenza, dell'ospitalità. Lo si affermava, questo è il punto, in modo nuovo, con forza e costanza del tutto inedite. Il valore dell'ospitalità, d'altro lato, era noto solo marginalmente al mondo classico. Era il Medioevo cristiano a dare fondamento etico all'ospitalitas, questo stesso nome conosciuto, sì dagli antichi, ma solo come attitudine o d'opzione individuale e come obbligo giuridico nei confronti dell'ospite. Si affermava nella bassa latinità come comandamento condiviso, come servizio reso al bisognoso e al sofferente, nell'ambito di un cristianesimo che si proclamava religione dei poveri. Fu così che la cristianità si dotò di diaconi per il servizio agli orfani e alle vedove e sin da subito di numerose case ospitali o donus episcopi, sorti accanto alle residenze vescovili e archetipi dell'istituzione ospedaliere moderne.